Buongiorno ragazzi, io vedo l'ossimoro, patrioti e mercenari. Come si fa a non capire la differenza tra le due persone? Patrioti sono quelli che vengono mossi nelle loro azioni da un senso di patria. Mercenari vengono mossi dalle loro azioni per un senso di denaro. Quindi chi offre di più? Io vado con chi offre di più, ok? Non esiste il patriota mercenario, è un ossimoro perché se tu sei mercenario vai con chi offre di più. Se sei patriota stai con la patria in spite of dei soldi, ok? Quindi fate pace con voi stessi quelli che vedo che dicono che sono dei patrioti mercenari perché non conoscete neanche le basi dell'italiano.